ai magistrati del Tribunale di Avezzano, ai colleghi della Procura della Repubblica, a tutto il personale del Tribunale della Procura della Repubblica e naturalmente anche agli avvocati che io considero sempre gli interlocutori principi della giurisdizione, quelli che partecipano dello stesso lavoro quelli che partecipano delle stesse istanze, quelli che soffrono delle stesse disfunzioni dell'apparato della giustizia e quelli che forse ne vadano in prima persona le conseguenze, quindi per me sono gli interlocutori più qualificati e più da valorizzare ogni quattro volta c'è una legittima istanza nella quale è segnalata una qualsiasi disfunzione. Ora, io mi perdonerei del dato, devo alzarmi un attimino per comunicarvi dei dati che naturalmente ho preso per iscritto quindi non ce li ho qui disponibili, io mettero un attimo in un cappone.